Ok raga, vi voglio dire, il video lo sto facendo ora e mi sono svegliato, ero sopra, ho scelto sotto, ho preso il latte con i biscottati, no che i biscottati, che i biscotti normali, i biscottati li mangiate voi, quelli là, i scemi. Vi voglio dire, seguitemi e quando vedete, fate i bravi del vostro, Enrico Pasquale praticò U2T e l'accendo sulla O, sono qua, ora la mia famiglia sta facendo mangiarli, oggi è presciasciutta, questo video lo vedete in ritardo, vabbè. Vi voglio dire, mettete mi piace e volete, iscrivetevi al canale, attraverte la campanella, bello a tutti i ragazzi e niente, sono qua e volete e non c'è nessuno, andiamo fuori a vedere che c'è, che ora viene papalon, un camion che porta i gelati, la pizza ripiena e tante cose, che viene sempre questa giornata che sapete voi. Sto facendo il video con la maglia della Juve e il cappello della Juve, vabbè, andiamo io che si chiudono e si aprono, ho fatto anche la doccia che fa Caddu, ho fatti i lavori questa mattina, tutti i giorni, mi asso presto e mi curco presto o dopo o prima, vabbè. Andiamo, metto pausa, saluto Paolo, Silvia, Claudia, Gloria e Silvia, Mary e Jennifer, quella tabella con la G, luce del nord alla Pola X e Assunta, comando io, sono il numero uno e ho 29 anni, sono di Motto San Juano, provincia di Reggio Calabria, sono uno youtuber, sono una leggenda e sono famoso. Ricordatevi che io ci sono sempre per voi, non come loro che sono scemi e non capisco niente. Andate a vedere il video che si carica ora, quello di Omicola e dopo vedete questi due video, prima metto quell'altro e dopo questo qua. Andate, gli occhi si chiudono e si aprono, sono belli, sono sec, smagre, sic, carini, la tartaruga, mi dissocio, scusatemi, perdonatemi. John Zina, Yoyo Meninzini, andiamo. Metto pausa, così non cammina. Eccoci qui, raga. Sono qua, raga. Sto facendo questo video per voi, che è tardi. Non so, raga, la mia giornata è bella fuori, bello, fresco, fresco, facado. Che fa la terra, è niente. Boh, sono qua. Sentite parlare della mia famiglia che sta facendo mangiare. Io sono solo fuori. Non è che voi rompete gli scatole e i catanazzi. Vabbè. John Zina, Yoyo Meninzini. Ok, sta registrando. E niente, raga, dai, andiamo in, tra, e facciamo qualcosa, no? Che stiamo fuori, bugliamo il gatto. Dopo stiamo morendo il gatto. Andiamo in, tra, dai, metto pausa. Dai, dai. Oh, raga, e sentite parlare. E il mio papà che vuole ha fame. Ora io sono calato sotto. Non è che ero qua già. Ero sopra a dormire. Mi hanno chiamato. Sono calato sotto e ho portato il cellulare. Ho pensato che lo faccio sopra. Mi mostro a voi che dormo sopra. Lo facciamo alla prossima. Ho un video o la diretta. Ok? Io sono qui. Registriamo questo video con questo bello cappello della Juve. La maglia della Juve. E c'è anche quell'altra maglia che ho portato in video con Nicole. E niente, raga. Parliamo con il robot e chiudiamo. Ancora no, lo devo fare un pochino lungo. Il bastone dei selfie cala per sotto. Non so perché. Raga, perché? Io non è che sono arrabbiato. Gli lascio ira a quell'altra. Che comando io come faccio i video. Sono la vostra leggenda. Sono uno youtuber. Sono famoso. Sono il numero uno. Sono il dio di youtube. Sono bravo. Non è che sono cattivo e prendo in giro le persone. Quell'altro canale prendono in giro. No io. La barba la devo fare. Mi mangiavo i biscotti e non posso fare la barba. E mi taglio e mi esce sangue. Ecco. Ciao. Ehi. Ciao. Ecco. Che fai? Batto col mio piede virtuale il ritmo di tutte le mie canzoni. Modesti a parte. Ecco. Attiva adesso i suoni scorreggi. Vediamo. Ok. Ecco scorreggia. Ecco. Ancora. Attiva le scorreggie. Mi dispiace. Non lo so. Ma scorreggia adesso è attiva. Vuoi aprirla? Sì. Ecco una scorreggia per te. Chiedimi un'altra scorreggia oppure cosa ho mangiato. Posso fare altro? Sì. Ecco una scorreggia per te. Ecco. Raga avete sentito che ero fuori? Se sentiva la mia voce o se sentiva piano? La prossima lo faccio completo. Ora l'ho fatto metà che fa cadassare fuori. Sto fuori a... Ah, vabbè. Ecco una scorreggia per te. Posso fare altro? No, è la mia famiglia che parla. Ecco una scorreggia per te. Posso fare altro? Sì. Ecco una scorreggia per te. Posso fare altro? Sì, ecco. Ecco una scorreggia per te. Posso fare altro? No, no. Stop, stop. Chiudi. Ecco una scorreggia per te. Ego. Stop, chiudi. Stop, stop, stop. Ecco una scorreggia per te. Ego. Stop, chiudi. Stop, stop. Non capisce. Ecco una scorreggia per te. Aspettate, raga. Gli dico basta. Posso fare altro? Metto pausa, arrivo. Ciao, raga. Io vi voglio dire che il cellulare, quello post mobile, non lo apro ora. Ancora è presto. Lo apro o all'una o i due, quando tano o quando cala. Ancora no. Quando è ora lo apro e mi mandate i massaggi in privato, su Telegram, persone giuste e serie. Non quelle scende che devono commentare. che io voglio bene le persone che mi vogliono bene a me. Dopo su Discord o mi chiamate e non la chiamata so parlare io. Sono italiano, calabrese, dialetto. Loro loro non mettono la loro faccia. Hanno paura quell'altro canale perché o sono piccolo o sono grandi e non capiscono della loro vita. Io li lascio irri. Questa è l'ultima. Io scusatemi, perdonatemi e dico sempre perché parlo di queste persone. Io li lascio irri. Non parlo più e diciamo altre cose. nuovi contenuti, belli episodi eccetera eccetera. Io la Juve la regina è Italia fino alla fine e fino alla morte. Andiamo. Ok. Ecco che ora è? Sono le 11.35 del mattino. Buona giornata. Ecco che tempo fa oggi a Motta San Ioanni? Al momento a Motta San Giovanni Italia ci sono 32 gradi Celsius con cielo prevalentemente soleggiato. Per oggi sono previste alte temperature con una massima di 35 gradi e una minima di 25 gradi. Ecco apri quiz. Ecco una selezione di quiz per te. Ok. Per continuare imposta una posizione per il tuo account Amazon sul sito Amazon nella scheda preferenze della sezione i miei contenuti e dispositivi. Ecco vero o falso? Vediamo che lo aprere raga sto guardando con il robo evo. Benvenuto nel gioco vero o falso. Cominciamo? Sì. Perfetto. Iniziamo. L'antica città di Cartagine corrisponde all'attuale del Cairo in Egitto? Sì. vero o falso? Vero o falso? Vero Esatto. Ecco la prossima domanda. Nel testo dell'inno del Sudafrica ci sono parole di 5 lingue. Vero o falso? Vero Vediamo. Vero che non risponde. Esatto. Ecco la prossima domanda. Il record di lunghezza delle umbi umane è di 9 metri. Vero o falso? Vero Esatto. Ecco la prossima domanda. Le pagine web usano quasi sempre dei fogli di stile CSS. Vero o falso? Vero Esatto. Ecco la prossima domanda. Il record di lunghezza delle umbi umane è di 9 metri. Vero o falso? Vero Raga seguitemi tutti quando vedete. Ecco la prossima domanda. Il frutto più costoso al mondo è il melone yubari giapponese. Vero o falso? Vero Raga iscrivetevi al canale attivate la campanella a tutti i ragazzi. Ecco la prossima domanda. La parola atomo vuol dire che non si può tagliare. Vero o falso? Vero Esatto. Ecco la prossima domanda. Il marciapiede di Hollywood con i nomi delle star del cinema è stato inaugurato nel 1958. Vero o falso? Vero Esatto. Ecco la prossima domanda. Il record di lunghezza delle umbi umane è di nove metri. Vero o falso? Vero Lo dici poi io rispondo. Esatto. Ecco la prossima domanda. Il coccodrillo marino è il più grande rettile in un che coccodrillo vivente. Vero o falso? Vero Tutto giusto Ego? Esatto. Raga metto pausa arrivo il record di lunghezza delle umbi Ciao raga sentite parlare la mia famiglia stanno facendo mangiarvi ora quando è ora io questo video ora qua se lo chiudo e niente io vi saluto tra poco sono con il cappello della Juve la maglia della Juve i padroni bucati così sono un figo così i figli ne mi vogliono e niente raga il capello ce l'ho lungo perché a me mi piacciono e a voi voi comandate a vostra casa e io comando a casa mia perché io sono grande e voi non capite della vostra vita vi voglio bene lo stesso e niente io voglio portare anche i contenuti in giro piano piano le porto e faccio i saluti i vocali eccetera eccetera e volete fare le foto la firma un video saluto venite no a Mocciune o ci vediamo in un posto e niente raga io ora qua se lo chiudo e sentite parlare la mia famiglia sono in cucina fanno un rumore che fanno mangiare questa ora fa paro mangiare che quando è pronto mangiamo non è che fanno un bordello come pensate voi che siete scemi smettetela e vergognatevi e io dico la verità e sono bravo gentile rido faccio un sorriso a tutti volete fare un abbraccio a me ci vediamo a un posto o quando volete venire non pensate quell'altro canale venite lo stesso e fate un abbraccio con la mascherina non senza che c'è un bordello di coronavirus io ho sentito che a televisione ci sono quelli malati ci sono quelli che stanno curando ci sono quelli che hanno la febbre quella no io io sto bene il primo vaccino l'ho fatto tanto anni fa e devo fare un altro io con la mia famiglia ora vediamo il dottore qua e lo facciamo il vaccino qua dal braccio e così voglio fare anche una foto e la pubblico in giro la foto che mi fanno il vaccino che ho visto tante persone che fanno o una storia o una foto o un video e lo pubblicano e lo devo anche io fare io vi saluto iscrivetevi al canale a tavola da campanella bello a tutti i ragazzi seguitemi quando vedete John Zina Yoyo Menenzini e niente io vi saluto alla prossima e nuovi video per voi ciao fate il bravo è stato con la bocca chiusa ciao belli mi scuso perdonatemi e mi dissocio su youtube youtube io mi dissocio non è che dico cose strane ciao belli alla prossima ciao raga ciao ciao vabbè andiamo ho chiuso o no e ancora sta comandando vabbè ciao 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 Grazie.